Le mancavano 500 metri per arrivare al garage della sua abitazione e invece il cuore di Laura Di Sciullo, 20 anni, ha smesso di battere, probabilmente per un'emorragia interna, dopo che la sua auto, una Fiat Punto, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un albero, uno dei soli due esistenti, lungo la strada provinciale 423, che doveva riportarla a casa, a Gallo di Petriano. Un colpo di sonno, probabilmente, alle 4.45 di sabato mattina di ritorno dal lavoro e il motore della macchina, che per l'urto rientra nell'abitacolo, non lascia scampo alla giovane studentessa che voleva diventare grafica pubblicitaria. Qualche minuto dopo le 15, oggi pomeriggio, l'Alli, come viene ricordata da chi l'amata e dal parroco, arriva in chiesa, seguita dai genitori e dall'intero paese. Una comunità in lutto, distrutta e segnata già un mese fa dalla scomparsa di un altro ragazzo, un centauro di 32 anni, Luigi Alessi, che sempre nella stessa strada, dopo un sorpasso con la sua moto, si è schiantato contro un'auto. Non dimenticheremo mai il suo viso gentile, allegro e la grinta che Laura metteva nel pensare al futuro, ha detto il parroco nell'Omelia. Futuro che da ora in poi vivrà nel ricordo di chi l'ha conosciuta e le ha voluto bene.